Adesso, lo sai, io non faccio televisioni, io faccio radio, ci sono canzoni, canzonette, oppure ci sono anche titoli di canzoni che portano all'interno questa parola. Vi ricordate, per esempio, sono su canzonette, ma ce ne sarebbero proprio tantissime, tantissimi successi. Allora, allora, attenzione allo Stadio San Paolo per questa grande festa, Edoardo Bennato! Ciao, Edoardo! Ciao, ragazzi, ciao, ciao a tutti! E Tony Cercola! Ciao, aiuto, ciao! Allora, facciamoci questa passeggiata insieme, un nuovo disco. Allora, questa canzone che ci fai ascoltare questa sera si intitola «Sei stato tu». Sì, praticamente, l'anno scorso feci un concerto alla Mostra d'Oltremare e al bass feci ascoltare questa canzone così, con una proposta. Se vi piace, se vi piace come è, no, la cantiamo tutti quanti insieme. Spero che porti fortuna al Napoli come ha portato fortuna finora. Benissimo, io forse la dedicherei in questo caso anche al mister, no? Perché se è stato tu mi sembra proprio che... Allora, allo Stadio San Paolo per questa grande festa, Tony Cercola, Edoardo Bennato. Dobbiamo chiamare a Stefano. 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 Ecco che sta arrivando. Stefano! Ma che c'è un ospite a sorpresa. No, facciamo finta di niente. C'è Svok che canta. Eccolo qua. E' un duo che vincerà anche Sanremo, lo sento. Sì, sì. Bennato e Svok. Bellissimo. 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 Buongiorno 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 Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, mamma mia!